Allora, il menu di questa sera prevede di iniziare a lavorare sui primi fondamenti del linguaggio Python e in particolare vedremo cosa si intende con variabili e con i valori e con i principali tipi di valori che sono supportati dal linguaggio. In particolare vedremo le cose base, i primi passi nell'utilizzo di numeri o di stringhe nel linguaggio Python e le operazioni che si possono fare con queste. Ma al di là dei semplici programmini che faremo con i numeri, cercheremo di entrare un po' nella logica di come si gestiscono le cosiddette variabili nel linguaggio Python. Vi ho detto una volta scorsa che dobbiamo pensare che una variabile in un linguaggio di programmazione vive in modo diverso rispetto alle variabili della matematica, che sono simboli per cui il valore è sempre indefinito, è sempre generico e che servono per definire delle relazioni con altre variabili il cui valore è anche non definito. In un linguaggio di programmazione le cose sono più semplici, più terra-terra come tutto e ogni variabile è associata a un determinato valore in un certo momento. Il modello mentale delle variabili, dell'utilizzo di variabili e valori in Python però è diverso o è particolare rispetto a quello che magari avete, chi ha conosciuto altri linguaggi come il C dove una variabile è una scatola, avevamo la metafora in cui la variabile è una scatola che conteneva un valore, ecco qui non è così, non funziona in questo modo, quindi conviene crearci un modello mentale più adatto a come funzionano le cose direttamente dentro Python. Quindi ogni volta che creiamo un programma che deve lavorare con dei dati, abbiamo già visto la volta scorsa, possono essere dati di ingresso, dati di uscita, dati risultati di elaborazione parziali all'interno del programma, questi dati in qualche modo me li devo ricordare. Devo ricordare un dato per poi poterlo visualizzare, per poi poterci fare dei calcoli, per poterlo usare nei passaggi successivi del mio algoritmo. E quindi ho bisogno di un meccanismo di base del linguaggio che mi permetta di ricordare dei valori, salvarli in memoria in qualche modo. Ok, il calcolatore può salvare un dato in memoria, ma poi mi deve dare il modo comodo per me di riconoscerlo e di recuperarlo quando mi serve. Questo meccanismo prende il nome di variabile, quindi nel linguaggio di programmazione posso definire delle variabili, che altro non sono che dei nomi, dei nomi che do ad alcuni valori che mi voglio ricordare dopo, che mi voglio ricordare più tardi, che so che mi serviranno più avanti. Quindi ad esempio io posso aver definito una variabile che si chiama base, il cui valore è 6, una variabile che si chiama altezza, il cui valore è 4, e magari con un algoritmo complicatissimo avrò calcolato che base per altezza fa 24 e lo memorizzo in un'altra variabile che si chiama area. Quindi, tre cose. La variabile ha un nome, ad una variabile è associato un valore, e poiché la chiamiamo variabile, deduco che questo valore associato ad essa può cambiare nel tempo. Adesso base vale 6, magari tra un attimo facendo gli altri calcoli base varrà 12. Si chiama variabile perché può variare, perché mi è permesso variare che cosa? Non il nome, ma il valore associato a quel nome. In questa slide sono rappresentati valori di tipo diverso, ci sono dei numeri nella colonna di destra dei valori e delle stringhe, che per comodità, per riconoscerle più facilmente, le mettiamo tra virgolette. Singolo apice o doppio apice in Python vanno meno entrambi. Quindi questo ci fa già intuire che i valori possono assumere tipi diversi. Vabbè, i matematici vi fanno i numeri reali, i numeri complessi, i numeri interi, eccetera, eccetera. Anche qua abbiamo tipi di valori diversi, range di valori diversi, che il linguaggio può supportare. C'è una domanda? Dimmi. No. La domanda era se è possibile creare una variabile che non cambia. in molti linguaggi di programmazione questo concetto si chiama costante. In Python non esiste nessun costrutto per poter dire che questo valore non può più cambiare. Sono io che non lo devo più cambiare se voglio che non cambi. però no, non è previsto. Dicevo, ci sono valori di tipo diverso. Una variabile può contenere la città di nascita che è Torino, ad esempio, che è una stringa. Oppure, non so, il giorno di nascita che è 26, che è un numero. Ok? È chiaro che le operazioni che posso fare sui numeri saranno diverse dalle operazioni che posso fare sulle stringhe. Quindi il tipo di un certo valore determina le operazioni che vi posso fare, che sono permesse, che sono lecite. Allora, 6 e 4 sono due numeri, li posso moltiplicare tra di loro e danno 24. Corso Duca e Torino sono due stringhe, non ha senso moltiplicare tra di loro. Se ci provassi, avrei un errore. Ok? Quindi il valore di un dato determina le operazioni, determina il tipo di valori che possono essere contenuti, scusate il gioco di parole, il tipo di un valore determina i valori che si possono contenere e determina le operazioni che si possono fare. Tra l'altro qua, ho parlato genericamente di numeri, ma vedete che alcuni numeri li ho scritti senza la virgola decimale, altri numeri li ho scritti con la virgola decimale, perché in realtà all'interno del calcolatore i numeri interi e i numeri che chiamiamo reali sono rappresentati in modo diverso e quindi anche tra numeri interi e numeri reali ci sono delle differenze di utilizzo. Sono tipi di valori diversi. Se non ho fatto errori e se voi avete fatto attenzione quando ho parlato di tipi di dato ho sempre parlato del tipo di un valore. non ho mai parlato del tipo di una variabile. Questo perché in Python le variabili non hanno un tipo. Quando io creo una variabile definisco una variabile che si chiama hanno solamente un nome. La variabile si chiama base. questa base può essere associata a una stringa che è il canaveral che è una base spaziale di lancio oppure può essere 6 che è la base del rettangolo. A differenza di altri linguaggi le variabili non hanno un tipo. Le variabili hanno un nome e hanno un valore corrente. Corrente vuol dire il valore che hanno in questo momento perché possono cambiare non l'abbiamo detto. E questo valore corrente ha un tipo un tipo di dato specifico ma è il valore da avere il tipo non la variabile. Questo ci vuole un attimo una frazione di seconda ad abituarsi per chi non ha mai programmato in altri linguaggi richiede un attimo di più per abituarsi a chi invece è abituato a dichiarare variabili con un tipo ben blindato. E vabbè finora sono parole come faccio a dichiarare una variabile? A creare una variabile. Ma non è più semplice basta che io scriva nome uguale valore all'interno del mio programma. Nome uguale valore crea una nuova variabile con quel nome lattine e associa a questa variabile il valore in questo caso corrispondente al numero intero 4 al tipo di dato intero 4. Quindi io sto facendo due operazioni contemporaneamente creo la variabile che prima non esisteva e poi gli do un valore iniziale non le posso scindere queste due operazioni non posso creare una variabile senza darle nessun valore invece in altri linguaggi posso è impossibile dire ok se questa è la variabile non la inizializzo ancora inizializzare è un gergo informatico per dire gli do il primo valore possibile valore iniziale appunto quindi in Python non possono esistere variabili non inizializzate nel momento l'unico modo per creare una variabile è associargli un valore associarle un valore e se poi voglio variare dimmi questo è diverso dal c certo certo non esiste una dichiarazione separata dall'inizializzazione esiste un'unica istruzione che dichiara la variabile la inizializza e la posso scrivere in qualunque punto del programma a differenza di altri linguaggi come potrebbe essere il c in cui tendenzialmente dichiaro tutte le variabili all'inizio e poi le inizializzo man mano che conosco i valori qui no dichiaro la variabile quando mi serve ok poi chiaramente faremo lo vedremo no con gli esempi ditemi uno e due dimmi sì 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 variabili locali e globali esistono nel senso che le variabili globali non le usate se non vi uccido le variabili globali e le variabili locali le possiamo usare quando vedremo le funzioni qui globali no è una cosa brutta e io le cose brutte non le vedo dimmi non abbiamo bisogno di operazioni esplicite per dichiarare il tipo di una variabile perché il tipo non è della variabile ma il tipo è insito nel valore allora se scrivo 4 questo è un valore intero se scrivo tra virgolette Giuseppe quello è un valore stringa se scrivo 3.14 quello è un valore reale non c'è dubbio eh? a cosa? sì 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 io quando creo un valore lo possiamo vedere fatemi aprire un repl ok così vediamo e ingrandiamo un pochino questa finestra così ci giochiamo un attimo io posso scrivere a uguale 4 quindi ho creato una variabile a che prima non esisteva e ha il valore 4 se io provo a stampare a mi stampa 4 se provo a stampare b mi dice che il nome b non è definito perché non ho dato non ho creato nessuna variabile il cui nome fosse b ok? se io la voglio creare posso scrivere b uguale x y z tra virgolette a questo punto se poi voglio stampare b visualizzarlo mi visualizzerà appunto x y z dove? non vedo là dimmi non ho capito variabili booleane sì o delle costanti che si chiamano true e false o ci sono delle costanti per variabili di tipo booleano no per valori di tipo booleano ci sono due costanti che si chiamano true e false adesso parliamo ancora di numeri stringhe no? poi i tipi più complessi ci arriveremo dimmi invece scusa? allora la furbizia di un linguaggio di programmazione secondo me non c'è perché c'è una macchina quindi le macchine non possono essere furbe nel momento in cui io scrivo un valore questo qua sono tutti valori costanti x y z è una stringa costante 4 è un valore un numero costante il modo in cui lo scrivo implica automaticamente il tipo di dato se io gli chiedo qual è il tipo di dato di 4 lui mi dice è un intero se gli chiedo qual è il tipo di dato di x y z lui mi dirà che è un tipo di tipo è una stringa quindi ogni volta che io creo un valore quello nasce con un tipo di dato per forza poi ci saranno modi impareremo modi per convertire un tipo in un altro convertire un numero in una stringa e viceversa ma ci arriviamo no? quello fa parte delle operazioni che posso fare sui dati se io chiedo il tipo della variabile a mi dice intero ma noi inganniamoci intero non è il tipo della variabile a è il tipo del valore che in questo momento la variabile a possiede perché se io voglio cambiare la variabile a e farla diventare 0,1 cosa ho fatto? ho usato la stessa sintassi variabile uguale valore variabile uguale valore ma adesso ha un significato diverso la prima volta che lo faccio crea la variabile che prima non esisteva le volte successive vedete che prima ho scritto a uguale 4 sopra e la prima volta a non esisteva prima l'ho creata una variabile e le ho segnato il valore iniziale qua sotto invece ho aggiornato modificato cambiato il valore che era contenuto in a e quindi adesso a è 0,1 e il tipo il tipo di a non si può dire perché le variabili non hanno un tipo il tipo del valore contenuto in a adesso è il numero reale che qui si chiama float per ricordare che è rappresentato in floating point che è una rogna che affronteremo nelle prossime lezioni ok quindi ho dei nomi le variabili che possono far riferimento a dei valori e quando voglio questi valori li posso modificare posso modificare il valore associato a quella variabile come faccio a no qui c'è una videata di python tutor che ci rappresenta volendo si può anche giocare in tempo reale ma lo facciamo con la repl ma questa figura di destra ci fa capire ancora una volta la differenza che c'è tra il nome e il valore no di di una variabile cosa vabbè è poco divertente dare a delle variabili dei valori costanti è più interessante quando uno questi valori li può calcolare usando altre variabili altri valori e quindi posso fare delle cose del tipo io avevo A avevo B B è Y non è tanto bello mettiamo che B vale 8 quindi A vale 0,1 B vale 8 io posso fare A per B che farà 0,8 e lo posso memorizzare all'interno di un'altra variabile per esempio chiamo C che sarà ovviamente 0,8 8 per 0,1 C uguale A per B cosa ho fatto? Allora questo innanzitutto ho creato una variabile che si chiama C prima non c'era adesso sì quindi ho definito una nuova variabile C e l'ho inizializzata con un valore valore dato da A per B diciamo bene il valore è dato dal risultato della moltiplicazione tra il valore che attualmente possiede A e il valore che attualmente possiede B quindi il simbolo di uguale si legge da destra verso sinistra cosa fa Python quando vede un uguale? Prima di tutto guarda a destra e dice ok questo qua vuole assegnare un valore qual è questo valore? Guarda a destra e fa i calcoli dopo che ha fatto i calcoli prende questo valore e lo associa alla variabile nominata se questa variabile non esiste ancora la crea se questa variabile esiste già la aggiorna semplicemente aggiornare una variabile significa tra l'altro buttare via con lo sciacquone il valore precedente quando io ho fatto B uguale 8 il mio vecchio ecistrion Z è scomparso per sempre non è più ricordato da nessuna variabile ogni variabile può fare riferimento ad un solo valore per volta in un certo esistente di tempo un solo valore se avremo bisogno di variabili che contengono più valore più valori scusate impareremo a usare variabili di cui tipo sia di contenitore di altri valori no? questo però ci aspettano ancora 4 settimane prima di arrivare ok? quindi prendo A il valore di A prendo B il valore riferito a B li moltiplico se posso se il loro tipo di dato è compatibile con l'operazione di moltiplicazione in questo caso sono numeri uno è un numero intero l'altro è un numero reale quindi li posso moltiplicare il risultato sarà un numero reale che viene salvato dentro C quindi abbiamo fatto A 0 1 B 8 la cui moltiplicazione è da 0 8 adesso quiz se faccio A uguale valeva 0 1 A uguale 5 quanto varrà C ricordate che l'abbiamo scritto sopra C uguale A per B quanto varrà C adesso? 0 8 non continuo a valere 0 8 perché non l'ho modificato ciò che io ho scritto qua vale in quel momento in quel momento prendo il valore di A prendo il valore di B li moltiplico il risultato che è un numero che è un numeraccio che non si ricorda neanche più che arriva da A per B è un numero e basta uno 0 8 che potrei aver trovato per strada lo metto dentro C non creo nessun legame tra A, B e C in quel momento l'assegnazione di valori come diceva la frase è un'assegnazione di valori non di variabili ok? quindi se poi cambio il valore di una variabile chi se frega non c'è nessun collegamento che vada al di là dell'operazione che faccio in quel momento in quel punto ok? quindi questo è agli antipodi rispetto a quell'espressione C uguale A per B se l'avessi scritto sulla lavagna di matematica che poi nell'angolo qua ti cambio A automaticamente ti cambia C perché è la stessa variabile sempre dal Big Bang alla fine dell'universo invece qui no vale in quel momento lì ok? vale solamente nel momento in cui lo assegnate quindi questa operazione qua questo uguale noi informatici lo chiamiamo assegnazione cioè ti do sto valore tienimelo da parte la prima volta lo chiamiamo anche definizione o inizializzazione della variabile per stressare il fatto che quella variabile prima non esisteva e poi la creo e questo rende anche operazioni del tipo A uguale A più 1 sensate in matematica se scrivo A uguale A più 1 è brutto fatemi fare A uguale A diviso 2 allora se entra uno che pensa che sia la lezione di matematica vede A uguale A diviso 2 e cosa mi dice? ah beh allora A vale 0 giusto? l'unico valore che è uguale alla sua metà se mi ricordo ancora bene è 0 un po' cotti qui invece no vuol dire una cosa completamente diversa assegnazione guardo a destra cosa c'è scritto a destra? che devo fare un'operazione che operazione è la divisione ok tra chi e chi? tra il valore di A 5 e il valore della costante 2 e quanto fa? fa 2 e mezzo 2 e mezzo è un numero e un numero lo metto dentro A potrei metterlo dentro Z potrei mettere dentro un'altra variabile qualunque lo metto di nuovo dentro A con me le variabili posso fare cosa voglio quindi sto sostituendo al valore corrente di A 5 un nuovo valore corrente futuro diciamo che sarà 2 e mezzo ho aggiornato il valore di A usando un'espressione sulla destra un calcolo un'espressione eretica che dipende dal valore vecchio di A ma non c'è confusione nel linguaggio non c'è confusione non dobbiamo averla neanche noi in testa ciò che c'è a destra dell'uguale si riferisce ai valori precedenti correnti delle variabili ciò che c'è a sinistra dell'uguale sta a riferirsi al valore futuro che assumerà una certa variabile non si creano paradossi infatti se io faccio A di 0 2 stampo A fa 2,5 in questo momento quindi prende e se ripeto questa operazione ovviamente farà 1,25 ogni volta prende il valore corrente che ha lì e fa quell'operazione e il risultato lo va a mettere sempre dentro A ok quindi cerchiamo di svestirci dal peso del simbolo uguale e ricordarci che questo semplicemente prende un risultato in operazione e dagli un nome se poi quel nome è uguale a un nome che avevi già vabbè vorrei dire che il valore precedente lo dimentichi perché se non sei stupido vuol dire che non ti serviva più sai che non ti serviva più finiteli se invece ti serviva più vabbè ricardi nella categoria dello stupido ok il segno uguale in matematica vuol dire due cose vuol dire identità ci sposiamo per sempre indissolubilmente e abbiamo visto che non è vuol anche dire uguaglianza confronto a è maggiore di b minore di b uguale a b anche questo significato non è presente nella programmazione anzi per fare confronti useremo un operatore diverso che è proprio per mantenere la differenza è uguale uguale e non l'uguale singolo ok quindi un'operazione non chiamiamola mai di uguaglianza la chiamiamo sempre di assegnazione ti do un valore tienilo fino a quando non ti chiedo di cambiarlo vabbè qui ci sono degli esempi ma non devi rifare gli stessi identici esempi che ci sono sulle slide prendiamo questo esercizietto che ci propone qua dice ci sono delle bevande che sono vendute in lattina e in bottiglia vabbè un negozio offre una confezione di 6 lattine da 12 once lo capite che è preso da un libro americano questo testo qua allo stesso prezzo di una bottiglia da 2 litri quale conviene comprare? domanda scema proviamo a impostare un programmino che ci aiuti a dare questa risposta quale conviene comprare? dovremo calcolare il prezzo io posso acquistare due cose ok? 6 lattine o una bottiglia però non posso confrontare il prezzo delle 6 lattine col prezzo della bottiglia no? perché hanno quantità di cos'era questo? birra? no hanno alcolico perdono scusate almeno posso acqua non posso confrontare la quantità di acqua non posso confrontare i due acquisti perché hanno una quantità di liquido diversa ok? allora dovrò calcolare il prezzo unitario quindi vuol dire creiamoci il nostro programmino allora mi faccio la cartella settimana 2 perché è il primo divertito che facciamo la settimana 2 settimana 0 2 e all'interno facciamo un file python che chiamiamo lattine.py quindi questo programma in realtà non ha input nel senso che mi dà già direttamente tutti i dati di cui ho bisogno mi dice che un negozio offre una confezione di 6 lattine da 12 onze allo stesso prezzo quindi so che il numero di lattine è 12 e la capienza delle lattine è uguale a 6 once oppure io posso comprare una bottiglia quindi il numero di bottiglie è 1 capienza bottiglia uguale 2 litri cosa ho fatto ho ricordato i dati del problema salvato i dati del problema in un insieme di variabili a cui ho dato un nome mnemonico cioè le variabili posso chiamare abcxyz ma poi quando ho dichiarato 25 variabili voglio chiedervi a così a bruciapelo ma cos'è la variabile qq no? dobbiamo dare dei nomi alle variabili che ci ricordino il significato del valore che esse contengono dimmi io sì potrei fare tutto su una riga sola mi faccio il ragionamento mente e faccio il calcolo qui sto cercando di far vedere i vari passaggi che poi si possono sempre collassare ovviamente quindi la prima cosa che mi sono detto è usa dei nomi significativi e coerenti ok? avrei potuto chiamarne NL e NB numero di lattine e numero di bottiglie però poi quando riapro questo file domani vedo NB il calcolo era già NB no? visto che alla fine non ci viene lo stress per scrivere 5 caratteri inziché scriverne 2 no? facciamoci un favore e scriviamo qualcosa che sia più facile da ricordare tra l'altro evita anche un codice scritto bene è un codice che si documenta da solo capisco cosa c'è scritto man mano che lo leggo questi ho messo dei commenti alle cose meno ovvie alle cose che di cui attenzione devo poi ricordarmi perché quel 6 lì e quell'uno sotto e quel 2 sotto non sono confrontabili sono due mondi diversi anzi anzi quello che mi dice ancora il problema è che 12 once sono 0,35 litri non mi dice neanche quant'è un'oncia vabbè noi cosa possiamo usare un fattore di conversione che dice che un'oncia quanti litri è quindi oncia uguale se 12 sono 0,355 sarà 0,355 diviso 12 sì sì cioè tu dici chi ha scritto no tu dici chi ha scritto questo esercizio in realtà ti ha semplificato la vita no perché ha già messo qua 12 once e qui ti ha già messo esattamente l'equivalente che ti serve in litri ok questo è il tipico dei libri americani dove le equivalenze sono un problema da altre università eh? qua cosa ho scritto è sbagliato numero latine erano 6 latine ah ok numero latine 6 e 12 giusto? è questo? grazie mille ok allora tra l'altro visto che poi lo dovrò moltiplicare questi due valori non mi sarei mai accorto dell'errore perché il risultato veniva giusto lo stesso poi quando trovo il supermercato che aveva 8 latine anziché 6 sbagliava il programma quindi era un programma che avrebbe dato un risultato corretto adesso ma sbagliato in generale meno male che siete voi allora vediamo se invece quest'altra cosa che mi ha richiesto la cosa banale l'ho sbagliata vediamo se questa che mi ha richiesto un ragionamento in più 12 once fluidi equivalgono a 0,35 litri quindi 1 oncia equivale a sì un dodicesimo di 0,35 3,55 ok a questo punto abbiamo tutti i dati del fattore di conversione e possiamo dire quanti litri quanti litri ci sono nelle lattine quindi se compro 6 lattine quanto bevanda avrò beh quante sono le lattine moltiplicato la capienza della lattina e poi devo però attenzione che questo numero è in once e devo tradurlo in litri e quindi dovrò moltiplicarlo o dividere queste sono once su litro e quindi dovrò no sono litri su once e quindi devo moltiplicare scriviamolo e questo mi dà il numero di litri se compro le 6 lattine invece litri in bottiglia è più facile perché si moltiplica per 1 dunque numero di bottiglie per capienza della bottiglia che è già in litri quindi alla fine dirò che diciamo così se compro lattine avrò litri lattine litri se compro se compro come si chiama bottiglie avrò litri in bottiglia litri quindi usando la situazione print che abbiamo visto la volta scorsa in cui questa situazione print stampo più dati contemporaneamente dei messaggi esplicativi e dei valori numerici se provo a far run di questo programma mi dice che se compro lattine avrò 2,13 litri se compro bottiglie avrò 2 litri e quindi visto che l'esercizio mi dice che sono venduti allo stesso prezzo conviene comprare lattine questa è la conclusione che ho aggiunto io il programma non l'ha fatta da sola quindi io ho usato ho definito delle variabili usando delle costanti che erano costanti intere oppure usando delle espressioni che mescolavano numeri interi e numeri reali e poi ho definito altre variabili usando delle espressioni che usavano valori di variabili precedenti qui e non c'è problema ogni volta che uso il nome di una variabile alla destra dell'uguale python va a prendere il valore che quella variabile assume in quell'istante di tempo e poi ci faccio l'operazione sopra e il risultato solo il risultato numerico lo metto nell'altra variabile quindi ricordiamoci sempre che attraverso segno di uguale passa solo un valore passa solo un numero non passa all'espressione che l'ha calcolato quando ho fatto print avrò stampato alcune cose dentro le virgolette e altre fuori dalle virgolette quelle dentro le virgolette sono delle stringhe costanti che vengono stampate tra le quali quelle fuori dalle virgolette sono delle espressioni in questo caso sono espressioni molto semplici contengono una variabile sola di cui viene calcolato il valore cioè in questo caso il valore della variabile e viene stampato il valore stesso se io avessi messo delle virgolette anche qua in litri in lattine il programma mi avrebbe stampato se compro lattine avrò litri in lattine litri perché tra virgolette avrebbe assunto che quello fosse una stringa costante e te la stampo così com'è fuori dalle virgolette invece lui assume che sia un'espressione da calcolare e la calcola andando a pescare i valori correnti idem è l'errore opposto se avessi dimenticato le virgolette qua quindi le ho tolte da litri già c'è un rosso che mi fa sospettare che qualcosa non vada bene se provo a fare run mi dirà name error litri non è definito dove alla riga 12 la riga 12 è proprio quella in cui ho messo litri perché perché colui qua sta vede che c'è un parametro da stampare un valore da stampare questo valore è rappresentato dall'espressione litri questa espressione è una singola variabile questa variabile non è definita perché non c'è mai stato un litri uguale a qualche cosa sopra e quindi quando cerca di recuperare il valore di una variabile non definita da errore perché la variabile non esiste il nome non è definito figurati se può avere un valore se non è neanche un nome quindi adesso rimettiamolo a posto il fatto che queste variabili contengono numeri interi numeri reali viene determinato a tempo di esecuzione man mano che il programma va avanti e secondo il valore che salta fuori dall'operazione assumerà un valore reale oppure un valore intero quello non è un problema vabbè qui va avanti quindi dicevamo i valori possono avere tipo diverso e il tipo dei valori della variabile il tipo associato al valore determina come viene utilizzato lasciamo perdere queste cose facciamolo direttamente qua quindi io torno nella mia replica ok diciamo che tanto le variabili le possiamo riusare quindi facciamo degli altri esempi con i stessi nomi abc per semplicità ok a uguale 5 e b uguale x y z torno là e poi facciamo c uguale a più b dimmi dimmi sì i valori di tipo stringa variabili di tipo stringa non si può dire la variabile non è un tipo i valori di tipo stringa sono sempre tra virgolette se io scrivo c uguale a più b in questo caso cosa succede? succede che trovo un bel errore perché sto facendo la somma tra il valore di a che in questo momento contiene un numero intero e il valore di b che in questo momento contiene una stringa e l'errore mi dice guarda che più che l'operazione che mi hai chiesto ha visto due operandi i due valori su cui ho chiesto di fare la somma che erano uno intero e l'altro una stringa e quindi i tipi questa combinazione di tipi di due operandi non è prevista non è permessa non ha senso non è possibile non è supportato fare la somma tra un intero e una stringa e quindi errore se b fosse stato invece 7,5 un numero reale l'operazione andava a filare a valiscia sommare un intero e un reale si può e mi dà un valore reale come risultato se a fosse stata una stringa e b un'altra stringa fare a più b si poteva in questo caso l'operatore più tra due stringhe opera come fare un'operazione di concatenazione di aggiunta crea un'altra stringa che è l'aggiunta alla concatenazione della prima più la seconda attaccata ok quindi ogni volta che facciamo un'operazione python va a vedere i tipi delle variabili dei valori che sono coinvolti in questa operazione vede se questi tipi sono compatibili e poi fare l'operazione opportuna sulla base di questo ci sono combinazioni compatibili e combinazioni non compatibili ci possono essere cose strane tipo a uguale 5 b uguale x y z c uguale a moltiplicato b ti dici dovrebbe schiantarsi e invece no che senso a moltiplicare un numero per una stringa ripetere tante volte però attenzione che se a fosse un numero reale mi sembra occhio che qua magari mi posso sbagliare se faccio a c uguale a per b si arrabbia perché non posso ripetere la stringa 1,2 volte 5 volte si è un numero intero numero reale no generalmente vabbè ovviamente impareremo poi gli operatori che operazioni possono fare e quali sono le loro limitazioni ma generalmente mi viene da dire che python segue abbastanza il buon senso no? se una cosa è vietata ha senso che sia vietata che è un po' l'esatto contrario qualcuno prima ha citato javascript che invece fa la cosa che meno ti aspetti di solito quando combini tra di loro valori di tipi diversi quindi ci sono anche qui adesso io ho assegnato i valori delle variabili ma poiché le operazioni lavorano solamente con i valori non ne frega niente nel nome della variabile la stessa risultata avrei potuto farlo scrivendo 3 per abc per dire oppure 3 più abc tanto prima lui calcola il valore poi se riesce a calcolarlo senza un errore lo salva nella variabile quindi per verificare se alcune espressioni si possono usare possiamo anche sempre nella repl che è interattiva provare a scrivere direttamente l'espressione con le variabili oppure con i valori costanti come preferiamo ok qualche regola in più noi abbiamo usato in modo intuitivo i numeri scrivendoli con la virgola senza la virgola secondo che fossero interi o reali effettivamente se voi andate a prendere il manuale di python ci sono due pagine che ti spiegano esattamente tutti i formati in cui puoi scrivere i numeri interi con sequenze di cifre eventualmente col meno davanti i reali hanno una cifra decimale quindi ad esempio questo numero qua 1.0 vale 1 matematicamente è un 1 ma avendolo scritto 1.0 sto dicendo a python trattalo come un numero reale che differenza fa? abbiamo appena visto che a seconda che alcune operazioni si possono fare con gli interi non con i reali e viceversa quindi vuole dire che ci memorizzo dentro un numero che concettualmente è un valore reale può essere qualunque ma in questo momento guarda caso coincide con un intero vabbè però per esplicitare questo si usa di solito virgola zero poi c'è la notazione scientifica 1.6 vuol dire 1 per 10 alla sesta ok e sta per l'esponente del 10 non è dell'ogra di uno naturale 2.96 per 10 alla meno 2 che è 0.00296 e basta essenzialmente non bisogna usare il separatore per migliaia non ha senso ma noi in Italia non usiamo mai neanche la notazione frazionaria quindi non ci verrebbe neanche in mente di scrivere 3.5 come 3.5 così questo per quanto riguarda i valori i numeri le stringhe è più facile aprire virgolette scrivi dentro chiuse virgolette tranne qualche carattere particolare che possiamo inserire sulle variabili io ho scritto dei nomi di variabili qua nessuno si è lamentato va bene mettendo insieme delle parole e per creare parole più lunghe ho usato il simbolo di underscore di trattino basso per separarle ci sono ovviamente anche qua delle regole che dicono quali sono i caratteri che posso usare per comporre un nome di una variabile io non avrei potuto chiamare una variabile n trattino la t una variabile non avrei potuto chiamare n trattino latine perché il trattino viene interpretato come segno meno come l'operazione di sottrazione e quindi quando lui incontra questo non saprebbe se è il nome di una variabile che si chiama n trattino latine oppure la sottrazione tra la variabile che si chiama n e la variabile che si chiama latine quindi ci sono alcuni caratteri permessi alcuni caratteri vietati nel comporre il nome di una variabile la regola è che un nome di variabile deve iniziare o con una lettera maiuscola o minuscola oppure col carattere di underscore il primo carattere i caratteri successivi possono essere una lettera maiuscola o minuscola o un underscore oppure anche dei numeri cioè una vera che si chiama c2 la posso chiamare una vera che si chiama 2c no non puoi iniziare con un numero ok e altri simboli di spazi non si possono usare per evitarli confondere vabbè le maiuscole e le minuscole sono diverse quindi la variabile a maiuscolo è una variabile non definita perché io ho sempre lavorato con una variabile che si chiama a minuscolo poi qua c'è per solito interprete python che mi prende in giro a grande non è definito ma volevi mica dire a piccolo quindi cambiare le maiuscole con minuscole in nome delle variabili in realtà crea delle variabili nuove indipendenti separate tra di loro quindi facciamo attenzione a non confonderci quando il nome di una variabile è semplice si scrive normalmente il significato che ne so oncia uguale quando come qua è una parola composta ci sono di solito due convenzioni due modi di scriverlo normalmente python suggerisce di usare questo che chiama snake case case sapete che è la parola inglese per indicare maiuscolo o minuscolo la maiuscolità di una lettera in italiano non c'è una parola corrispondente uppercase e lowercase quando una parola è composta li separa con dei trattini le varie parti per rendere più leggibile nessuno mi vieterebbe di chiamare una variabile capienza bottiglia scritta tutto attaccato è un pelino più difficile da leggere e quindi mi rallenta un pochino sia nella scrittura che nella lettura del programma l'altro modo per scrivere variabili con più nomi dentro è quel di usare il cosiddetto camel case sembra un cammello che a un certo punto ha la gobba cioè mettere in maiuscolo la lettera iniziale di ogni parola che c'è dentro tranne la prima questa è una di solito una convenzione uno può scriverla come vuole non c'è nessuna regola per abitudine i programmatori python tendono a usare snake case i programmatori java javascript tendono a usare il camel case i programmatori c usano solamente variabili di una lettera sola dimmi c'è una variabile si possono usare anche sì in realtà questo è non è molto esplicito quando si parla di una lettera posso usare anche delle lettere accentate ok sì e anche altri caratteri in realtà anche delle emotiche non andiamo a complicarci la vita di solito ok ci sono alcuni esempi di variabili che si possono scrivere o non scrivere e ci convince che avere una variabile scritta per esteso è più facile da ricordare e da comprendere rispetto a una variabile che per qualche motivo decidiamo di abbreviare troppo tenete presente e le costanti ci sono ma sono finte nel senso che in python posso sempre definire una variabile anzi per carità questa cosa qui oncia è proprio la costante però io l'ho dichiarata come tutte le altre variabili che in realtà potrei subito dopo cambiare in python non c'è nessun modo per forzare una variabile a non cambiare più valore e allora anche qua usiamo una convenzione di scrivere in tutto maiuscolo le costanti per promessa promettiamo non è oncia è oncia singolare promettiamo se la scrivo in tutto maiuscolo prometto di non cambiarla più quindi mi salterebbe all'occhio se vedessi una variabile scritta in tutto maiuscolo sul lato sinistro dell'uguale vuol dire che ho fatto una promessa e non la sto mantenendo tranne ovviamente la parte il punto iniziale in cui la sto inizializzando però questa è veramente proprio solo una promessa che facciamo noi stessi se io scrivessi sotto oncia uguale a 7 tranquillo non fa nessun problema non c'è non c'è modo di di impedire di modificare una variabile conviene aggancio una domanda di uno che una delle vostre domande precedenti ma chi mi avrebbe vietato qua di scrivere litri in lattine uguale 6 per 12 per 0355 diviso 12 alla fine abbiamo detto ho insistito tanto che l'unica cosa che interessa a python è il valore che ha questa variabile in questo momento se ci scrivo già direttamente il valore risparmio un passaggio il problema è che se metto questa moltiplicazione qua sempre domani mattina quando mi sveglio non capisco più cosa sta facendo questo programma anche perché avrei scritto per 12 e poi un diviso 12 perché era dentro l'oncia dico ma perché sono stato così scemo a moltiplicare e dividere per 12 perché in realtà sono significati diversi poi in questo caso il programma degenere perché ogni variabile la uso una volta sola ma se la stessa variabile la usassi più volte per fare elaborazioni diverse ripetere lo stesso valore più volte il numero non parla non dici che cos'è il vecchio detto di professore di fisica tre ma sono tre cose mele o pere ecco qui sono 6 e 12 sono numeri interi non hanno un significato il significato glielo do io se lo memorizzo in una variabile il cui nome mi aiuta a ricordare a me non a Python il significato di quel valore che cosa rappresenta quel valore vabbè poi c'è abbiamo già messo i commenti nel programma abituiamoci anche qua sempre a metterli la leggibilità di un programma io su questo insisto abbastanza perché aiuta a noi stessi ti sembra di fare più in fretta a volte scrivere nomi di variabili stringati nessun commento vai giù a scrivere codice perché in quel momento hai tutto in testa e hai dentro di te una sorta di fretta buttarlo fuori tutto prima che ti scompagna il problema è che non è finito lì nel senso che quel pezzo di programma poi lo dovrai riprendere aggiungere cose e non avrai più tutto in testa perché stai concentrato su un'altra parte dell'algoritmo allora torni su e non ci capisci più niente non sai più cosa hai fatto e cominci a prendere la variabile sbagliata perché anziché chiamarla x1 non l'hai chiamata x3 prendiamoci il nostro tempo per fare le cose per bene e ci aiuta sicuramente ad andare avanti ok cosa posso fare con i numeri questo capitolo qua si chiama aritmetica che ci dice essenzialmente che tutte le operazioni di base dell'aritmetica si possono fare sono supportate in python sia tra numeri interi sia tra numeri reali e segue le regole normali dell'algebra cioè le moltiplicazioni le fa prima delle somme e cose del genere ok quindi python non casca nei giochini cretini che trovate sui social tipo questa espressione qua chissà quanto fa non lo saprai mai non lo saprai mai no? è perché sei ignorante certo segue le regole normali dell'algebra da sinistra verso destra ecco la precedenza esponenti moltiplicazione divisioni somme e situazioni punto l'esponente è rappresentato dal simbolo asterisco asterisco cioè due volte il simbolo asterisco fa calcolo l'allevamento potenza un asterisco solo fa la moltiplicazione se voglio fare espressioni complicate posso usare le parentesi le parentesi che uso sono sempre parentesi tonde annidate quante volte serve non c'è tonda quadra graffa le quadre e le graffe le incontreremo ma avranno un significato completamente diverso questi sono parentesi che servono per raggruppare l'espressione e forzare un ordine in cui vengono calcolate le espressioni quindi se io voglio che questo elevamento potenza elevato alla n avvenga dopo la divisione e la somma sono obbligato a mettere una parentesi qua perché senza parentesi per sua natura la prima cosa che farebbe sarebbe 100 elevato a n poi farebbe la divisione e poi farebbe la somma per regole di precedenza se i numeri che ho nelle mie espressioni e qua intendo sia numeri costanti che scrivo sia valori correnti di variabili sono misti interi e reali normalmente python non ha grossi problemi quando vede un intero messulato con un reale prende il numero intero lo converti in un reale a sua volta e poi fa l'operazione quindi se io scrivo 7 più 4.0 dice questa è una somma tra cosa un intero e un reale ok quindi questa è una somma da fare tra numeri reali prendiamo 7 lo convertiamo in 7.0 e facciamo la somma è la regola generale la applica sempre non va a dire ma guarda che in realtà 4.0 in realtà è intero quindi potrai convertire 4.0 in 4 no questo non viene fatto la regola di esecuzione di un programma non dipende dal valore che c'è in quel momento dipende dall'operazione fatta e dal tipo di dato che ci sono e ovviamente abbiamo visto che alcune volte queste conversioni questi allineamenti di tipi tipo quando c'è una stringa non li può fare e ci segnala errore quindi normalmente non c'è problema a distinguere numeri interi da numeri reali quando c'è bisogno il numero intero viene automaticamente trasformato in un reale tranne un caso in cui effettivamente ha senso distinguere c'è la divisione prima ho fatto 5 diviso 2 mi hai dato 2,5 che è forse un po' vabbè è la risposta matematicamente corretta 5 numero intero diviso 2 numero intero 2,5 numero reale numero razionale vabbè reale però è un po' a volte perché faccio un'operazione tra numeri interi e il risultato diventa reale ecco perché l'operazione di divisione per come è costruita dà sempre un risultato reale e quindi anche se divido due interi otterrò un reale che può essere frazionario se io invece volessi fare la cosiddetta divisione intera la divisione tra numeri interi che mi dà un risultato intero 5 diviso 2 cosa fa? fa 2 col resto di 1 a volte mi serve allora c'è un altro simbolo che è la divisione intera che si indica con la doppia sbarra quindi se io faccio 5 diviso 2 l'ho scritto là sopra no sotto 5 diviso 2 fa 2,5 5 divisione intera 2 fa 2 con il resto 5 con il resto di 2 il resto della divisione tra 2 fa 1 cioè la divisione reale la slash mi dà un risultato intero eh reale se voglio fare la divisione intera il risultato è sempre doppio quoziente e resto noi facciamo una divisione in colonne elementari al quoziente me lo calcolo la divisione intera simbolo barra barra resto me lo calcola un simbolo che somiglia un po' a una divisione hanno preso il percento perché più o meno somiglia a divisione non c'entra un tubo con le percentuali è un simbolo che mi rappresenta il resto della divisione intera tra 5 e 2 dimmi allora lui mi ha chiesto sull'arrotondamento allora la divisione intera per definizione mi dà la parte intera del risultato quindi arrotonda sempre verso meno infinito devo fare attenzione perché poi se io avessi meno 5 diviso 2 quanto fa? fa meno 3 il più grande intero che sia minore di e quindi arrotonda sempre verso meno infinito per definizione di operazione di divisione intera e quindi ad esempio meno 5 diviso 2 non è stessa cosa che meno 5 diviso 2 bisogna fare attenzione che con i numeri interi non valgono tutte le regole dell'algebra se uno volesse fare arrotondamenti di tipo diverso li fa in campo reale ad esempio c'è una funzione che si chiama round 5 diviso 2 che mi dà sempre 2 perché in questo caso arrotonda così round di 3.6 da 5 ad esempio 4.6 mi da 5 quindi ho delle funzioni che non abbiamo ancora visto ma che servono per fare altri tipi di operazioni aritmetiche però l'arrotondamento è un'operazione che avviene in campo reale perché se no non è niente da arrotondare è un intero secco quindi divisione intera e resto o modulo della divisione stessa sono le due operazioni le uniche due operazioni che sono un pochino diverse dal solito rispetto alle operazioni di base e poi ci sono operazioni sempre aritmetiche però basate su funzioni noi abbiamo le quattro operazioni ma poi possiamo avere appunto l'arrotondamento la radice quadrata il seno coseno tangente altre operazioni che non meritano ciascuno di avere un simbolo più o meno per diviso ma le chiamiamo per nome questo si fa attraverso l'uso di funzioni noi abbiamo visto una funzione in python che era print che era una funzione un po' anomala perché anziché fare un calcolo semplicemente mi vomita qualcosa sullo schermo le altre funzioni normalmente ricevono dei valori che sono un po' più simili alle funzioni matematiche ricevono dei parametri e restituiscono un valore ad esempio una funzione si chiama valore assoluto abs riceve un parametro che deve essere indicato tra parentesi tonde come il parametro della funzione print d'altro canto e restituisce un valore che vabbè sarà il valore assoluto di ciò che gli è passato quindi ad esempio valore assoluto di 7 fa 7 valore assoluto di meno 7 fa 7 valore assoluto di meno 7,1 fa 7,1 quindi notiamo anche da come lo scrive che se gli passo un numero intero mi restituisce un numero intero se gli passo un numero reale mi restituisce un numero reale quindi mi mantiene il tipo in realtà è un po' doppia questa funzione funziona sia sugli interi che sugli reali mantenendoli e questo dove la posso mettere questa funzione? ovunque io posso fare c uguale a più il valore assoluto di b in questo caso non serve a niente non mi ricordo neanche cosa hanno a e b in questo momento l'ho fatto perché b era una stringa poverino a uguale 7 b uguale meno 8 b uguale meno 8 c uguale a più il valore assoluto di b 7 più meno 8 anziché fare meno 1 per il valore assoluto mi farà 15 posso applicare una funzione a una variabile e il risultato di questa funzione a sua volta posso sommarlo sottrarlo oppure applicarci altre funzioni sopra non c'è limite possiamo comporre espressioni complicate quante vogliamo non c'è problema l'importante è mantenere bene l'ordine delle parentesi la parentesi aperta la parentesi chiuse eccetera valore assoluto c'è la funzione round che arrotonda al numero intero più vicino oppure arrotonda a una cifra decimale a 2 a 3 quindi ti dà un numero con 1, 2, 3 cifre con la virgola c'è una funzione massimo minimo che ricevono più valori o più espressioni più variabili o anche espressioni ricordate che ovunque ci sia scritto x al posto di x può essere un'espressione lunga tra righe l'importante è che alla fine dia un valore e anche qua questi massimo e minimo mi danno il massimo e il minimo tra una serie di valori qual è il massimo tra a e b e c scusate non il punto ci vuole la virgola a b c e 15 quindi ricordate l'altra volta quando facevamo il massimo un divisore avevamo bisogno di sapere qual era il più grande e il più piccolo tra i numeri non sapevamo ancora che Python ha una funzione predefinita per darmi il più grande e il più piccolo di 2 o 3 o una serie di numeri e lo possiamo usare direttamente come operazione primitiva e la forza di Python è proprio avere tante funzioni disponibili alcune funzioni sono già predefinite tipo queste qua il valore assoluto massimo e il minimo e poi invece ci sono altre funzioni che fanno parte della libreria standard quando parliamo di libreria standard vuol dire che ce l'abbiamo già installata sul nostro computer perché era dentro Python quando l'abbiamo scaricato all'interno di moduli tutte queste funzioni aggiuntive vengono messe all'interno di moduli perché così le possiamo usare solamente quando ci servono non avrebbe senso avere 10.000 funzioni sempre disponibili con rischio che poi quando scrivi il nome di una funzione lo sbagli per caso quello è uguale a un nome di un'altra funzione che non conosci ok allora queste funzioni vengono divise in moduli e che puoi decidere se usare o no e se li usi ci sarà o ciascun modulo conterrà una serie di funzioni di uso comune quindi noi in qualche modo le funzioni predefinite sono queste punto solo queste no alcune già le conosciamo guardate valore assoluto c'è già qua c'è max c'è print la conosciamo e altre che dovremo arrivare a conoscere minimo e poi alcune di queste non tutte le useremo normalmente queste basta usarle ci sono già pronte però qua non vedo la radice quadrata non vedo la trigonometria eccetera perché ad esempio queste funzioni matematiche sono dentro un modulo che si chiama math all'interno della libreria di python e qui c'è il link alla pagina della libreria standard che descrive questo modulo contiene tutte le funzioni matematiche tutte più di quelle che ci servono quindi lui voleva arrotondare l'intero superiore c'è una funzione per arrotondare l'intero superiore valore assoluto fattoriale arrotonda l'intero inferiore resto di una divisione tra numeri reali che è una cosa che non è anche facilissima da definire massimo c'è il massimo con un divisore pensa a te vabbè a queste ne parliamo is close e poi ci saranno più avanti anche funzioni di potenza e logaritmo base 10 in base e in base 2 funzioni trigonometriche funzioni trigonometriche di perboliche funzioni speciali e così via ah costanti guarda che c'è anche pi greco il nostro amico e così via cioè dentro questa libreria math ci sono definite tutte queste funzioni o in alcuni casi delle costanti come faccio ad accedere a queste funzioni di libreria dal mio programma attraverso un'operazione di importazione all'inizio del programma devo scrivere from nome del modulo import nome della funzione dal modulo math importami la funzione radice quadrata a quel momento posso scrivere posso usare la funzione radice quadrata se io adesso scrivessi nel mio repl sqrt di di 2 mi fa una pernacchia perché sqrt non è definito ma se io from math import sqrt allora me la sa calcolare ok quindi posso importare le funzioni di cui ho bisogno in realtà io potrei anche calcolare c uguale sqrt di 11 ad esempio nel momento in cui scrivo perdon devo farvi vedere ciò che fa visual code nel momento in cui io scrivo sqrt non l'ho ancora importato e non c'è nessuna importazione sopra lui mi dice guarda che io ho riconosciuto questo sqrt all'interno di un modulo se ci clicco sopra in automatico mi aggiunge l'import e quindi sqrt del seno di 3 la stessa cosa ha usato seno e lui mi ha aggiunto voglio importare la funzione seno e la funzione sqrt quindi questi sistemi di importazione con visualizzato code di solito ci vengono abbastanza gratis dovete solo fare attenzione perché alcune volte una funzione con lo stesso nome compare in più moduli diversi quindi dovete essere sicuri di importare quello giusto allora c'erano un po' di domande una lì ok allora la domanda è devo per forza importare le funzioni una per volta la risposta è visto che non lo fai tu ma lo fa l'editor è meglio di sì altrimenti c'è un meccanismo per dire importami dentro tutte le funzioni di un modulo a me non piace tanto perché a meno che tu mi sappia recitare a memoria quali sono le funzioni di quel modulo c'è il rischio che lì ci sia una funzione che si chiama con lo stesso nome di una variabile del tuo programma quindi secondo me è sempre meglio essere espliciti uno dei principi di python è explicit is better than implicit è sempre meglio essere espliciti piuttosto che implicit c'è un altro modo di importare le funzioni che è quello di importare il modulo quindi anziché fare from math import sqrt si usa invenzione import math voglio usare questo modulo e quindi mi rende disponibili tutte le funzioni del modulo a patto che io usi ogni volta il prefisso math.sqrt e tra l'altro questo è comodo perché mi permette di usare funzioni che casualmente abbiano lo stesso nome ma appartengono a moduli diversi se io mi si importo il modulo il nome poi alla fine mi dimentico da quale modulo provenisse qualcun altro lì aveva la mano alzata prima stessa domanda ok quindi se siete pigri la risposta non è importo tutto se siete pigri la risposta la faccio importare dall'editor da video studio code ma alla fine il programma viene importato tra l'altro video studio code ci aiuta anche dicendo ma se poi alla fine se non lo usi me lo segnala dicendo che questo ha importato questa funzione e non la stai usando ok che può essere utile perché dici no ma io lo sto usando e magari l'hai chiamata scritta in modo diverso l'hai chiamata sbagliata quindi è sempre meglio essere siamo così precisi su questo in termini di altre operazioni che possiamo fare con i numeri sono i vari tipi di arrotondamento adesso abbiamo capito che ci sono delle funzioni in libreria matematica che ci danno un controllo maggiore rispetto alla semplice round per difetto per eccesso troncato la differenza tra per difetto e troncamento è sui numeri negativi uno tronca uno al prossimo verso meno infinito l'altro al prossimo verso lo zero sembra una banalità però se andate a vedere questo articolo vedete che ci sono 40 modi diversi di arrotondare i numeri in python che questi sono i più semplici quelli più intuitivi c'è anche un arrotondamento strano che è dato alla funzione int la funzione int che cosa fa? prende qualche core e cerca di convertirlo in intero quindi è un caso particolare di un meccanismo più generale di una conversione esplicita di tipo su questo chiaramente ci dedicheremo più tempo più avanti ecco parlando di arrotondamento negli ultimi 5 minuti dobbiamo un attimo frenare l'entusiasmo che ci dà la capacità di calcolo di python ma in realtà non è colpa di python che a volte i risultati soprattutto sui numeri reali sono un pochino imprevedibili cioè 0,1 più 0,2 non fa 0,3 verifichiamolo pure non ci credete 0,1 eh perché lo scrivo sempre là su 0,1 più 0,2 mi dà questo numero qua cioè 0,1 è 0,1 0,2 è 0,2 la loro somma non fa 0,3 se io mi chiedo ma 0,1 più 0,2 è uguale a 0,3 falso no non è uguale a 0,3 ok già ci mette di buon rumore perché perché lo vedremo con un pochino di dettaglio quando faremo la rappresentazione di numeri in floating point ma di base quello che succede è che pensiamo in base a 10 un terzo più due terzi cosa fate? fate 0,33 più 0,6666 e il ruttato fa 0,999 e non fa 1 perché un terzo non è rappresentabile in modo finito in base a 10 due terzi non è rappresentabile in modo finito in base a 10 quindi è un errore di approssimazione piccolo eh 0,999 posso avere 19 e avere un errore dell'ordine di un decimo di miliardesimo ma c'è non è uguale allora ogni volta che succede che un numero reale non è rappresentabile nel numero di cifre che ho a disposizione nel mio calcolatore avrò necessariamente un errore di approssimazione che lo quantificheremo è dell'ordine del 2 quella meno 50 quindi è una roba piccola però a volte salta fuori in certi tipi operazioni voi mi dite ma scusa sì ci posso credere ma qui non è 0,33 è 0,1 non è un numero periodico in base a 10 non è un numero periodico in base a 2 sì il calcolatore lavora in base a 2 quindi 0,1 non è un numero non è composto solamente di potenze di 2 perché c'è un quinto un 5 denominatore perché è un decimo e quindi quello mi dà un risultato periodico che devo a un certo punto troncare allora dobbiamo abituarci lavorando con i numeri reali che i risultati delle operazioni non sono mai esatti salvo casi particolari ma è normale che non siano esatti saranno vicini sono molto approssimati l'errore è minimo c'è chi se frega a parte l'ha fatto diciamo così antiestetico di questi 4 ma se vado a vedere qual è questo errore sono 4 quanti 0 ci sono qua 12 0 è assolutamente irrilevante dal punto di vista quantitativo dal punto di vista fisico dal punto di vista matematico non posso dire che sono uguali e questo salta fuori ogni tanto quando meno ce l'aspettiamo vediamo delle catene di 0 o delle catene di 9 questo sarebbe 435 ma lui me lo calcola così come dicevo il valore di solito non è modificato in modo significativo però quello che cambia è il modo di gestirlo quando io ho dei numeri reali non posso mai mentalmente chiedermi se il risultato è due espressioni che coinvolgono numeri reali se questi risultati sono uguali o no perché di solito non sono uguali anche se dovrebbero essere poi può capitare che qualche volta siano uguali ma non è che posso scommettere la correttiva del mio programma sul fatto che una volta su 100 casualmente o sono identici oppure sono sbagliati nello stesso modo e allora per questo quando dobbiamo vogliamo confrontare dei numeri reali la libreria di Python mi mette a disposizione una funzione che si chiama isClose che mi dice sono abbastanza vicini magari non sono uguali ma la loro differenza è così piccola che poi si è trascurata quindi solo nel caso dei numeri reali impareremo a dover fare un confronto non con l'uguale o diverso ma con isClose oppure not isClose in questo caso fatemi solo importare quella là era falsa ma se io mi chiedo se 0 1 più 0 2 sono vicini a 0 3 mi dice di sì quindi purtroppo abbiamo a che fare con l'aritmetica approssimata e anche i confronti li faremo approssimati poi quando vediamo un po' più in dettaglio di IsClose vediamo come controllare quanto deve essere tollerante oppure no ok vi lascio con due avvisi il primo per questa settimana cominciamo i laboratori visto che le prime settimane i laboratori sono densi di persone vi chiedo per quanto possibile di cercare di rimanere nel vostro turno o al massimo cercare di fare uno scambio uno a uno con un'altra persona che faccia il turno inverso poi dalla terza quarta settimana so che a me non fa piacere ma so che la frequenza cala e quindi è più facile scambiarsi secondo avviso scusate lunedì prossimo c'è l'inaugurazione dell'anno accademico al pomeriggio e quindi le aule del pomeriggio sono state requisite vengono delle persone più importanti di noi e quindi hanno bisogno del vuoto intorno e quindi in teoria non potremo fare lezioni anzi non in teoria non possiamo fare lezioni in aula la faremo online ok cerco di capire se i colleghi non fanno lezioni l'anticipo rispetto a questo orario però ci sentiamo sul gruppo grazie grazie